E poi è arrivato a trovarmi un mio vecchio amico che prima faceva il mio stesso mestiere e poi è sceso, ho salito, non ho mai capito, si scende o si sale in politica è uno dei miei dubbi esistenziali e oggi è senatore del Movimento 5 Stelle avete capito, Gianluigi Paragone è stato un volto della 7 Allora Gianluigi, parto da te perché queste due persone dicono cose diverse mentre la signora anziana è poco convinta, è un po' scettica la ragazza giovane ci crede tanto al reddito di cittadinanza è quello il target vero dei 5 Stelle, ragazzi giovani che pensano che questa è l'unica fune che gli viene lanciata? Secondo me non dobbiamo più pensare ai target nel momento in cui termina la campagna elettorale e ti proponi come classe dirigente devi pensare al bene del paese Ma che bella frase, io non me ne ho accorto che però si è finita la campagna elettorale sono d'accordo con te, concordo E quindi dobbiamo dare delle risposte a prescindere dal target Credo che purtroppo le difficoltà di chi vive al di sotto di una soglia di povertà di chi vive al di sotto magari anche di lecite aspettative di gente che ha studiato e si ritrova nel limbo quasi della invisibilità sociale perché quando non hai più un lavoro, quando sei dentro il precariato continuo quando a 50 anni perdi il posto di lavoro e non lo ritrovi più diventi quasi un invisibile per questa società Allora dobbiamo dare delle risposte Qualcuno nel passato ne ha date di altre Noi vogliamo dare questa Poi vedremo i risultati Ma come si dice anche nel Vangelo Redderazione mi arriva dopo Allora, De Nicola, voglio subito sentire lui perché immagino che per lei queste misure sono assistenzialismo puro o invece possono essere, come dicono i 5 Stelle benzina nel sistema anche per i consumi dare un po' di soldi in mano alle persone Allora, benzina nel sistema no perché in una situazione di alto debito pubblico e di economia non in recessione e un'economia aperta come quella italiana quello che viene chiamato il famoso moltiplicatore cos'è il moltiplicatore? Metto 100 euro di spesa pubblica e vediamo quanto genera Ecco, in queste situazioni il moltiplicatore diventa un divisore nel senso che metto 100 euro di spesa pubblica e genero 80 di prodotto interno all'altro Quindi la crescita del trigo e apparato Tria per lei è una beata illusione? Non lo so Se lo sapessi sarei ricco Diciamo, non lo so Però ecco, concettualmente il reddito di giadinanza Gli 80 euro di Renzi furono un flop cramoroso I consumi nell'anno in cui ci furono gli 80 euro di Renzi che erano 10 miliardi anche quelli aumentarono dello 0,1% esattamente come il PIL Né una lira in più, anzi un euro in più, né un euro in meno Però c'è una differenza con gli 80 euro Quelli erano una gente che già guadagnava 1.500 euro Qui parliamo di gente che potenzialmente cominciava a avere qualche soldo in tasca e prima non ce l'avevano Sì, però erano per redditi che erano comunque bassi perché oltre i 22 mila euro all'anno si perdevano tutti gli 80 euro quindi non erano persone che certo avevano un lavoro ma non erano persone benestanti ma persone che gli 80 euro gli facevano comodo La seconda cosa del reddito di cittadinanza è che naturalmente può avere effetti diversi per alcuni può avere un effetto buono gli dà più sicurezza e gli incentiva a trovare il lavoro per molti altri può invece avere l'effetto completamente disincentivante di non cercare lavoro o di arrangiarsi D'altronde c'è stato un esperimento fatto in un paese molto civile dove il senso civico è molto più alto come la Finlandia hanno dato il reddito di cittadinanza Si torna indietro Dopo sei mesi l'hanno sospeso perché hanno detto che non andava bene Ora io non sono pregiudizialmente e ideologicamente contrario a forme di sostegno Ci sono forme di sostegno che potrebbero essere anche più intelligenti cioè quello che veniva chiamato da Milton Friedman il reddito negativo ogni euro che guadagni in più ti tolgo mezzo euro di sostegno in modo che tu comunque sei incentivato a guadagnare di più però non ti sparisce tutto subito Quindi ci sono dei modi per avere forme di sostegno a chi non sta bene Il reddito di cittadinanza, tu cur, con questa così come viene prospettato perché poi la nota aggiuntiva Non l'abbiamo ancora letta Nessuno l'abbiamo ancora letta Parliamo di ipotesi Non credo né che aumenterà i consumi perché statisticamente così alto debito pubblico grande presenza, quelli si chiamano gli stabilizzatori automatici se uno ha tante tasse, poi le tasse stabilizzano l'effetto pubblico Gli economisti mi piacciono perché parlano sempre tanto in modo che poi possano giustificare i fallimenti a cose fatte A posteriori Cioè loro le grandi crisi non le hanno mai previste Allora a che servono gli economisti se non sono neanche in grado di prevedere le crisi Ma se uno va a rileggere C'è un bellissimo libro che si chiama A parte che io non sono un economista perché altrimenti gli economisti veri si arrabbiano No, no, no C'è un bellissimo libro Avvocato liberista lo definirei C'è un bellissimo libro del 98 scritto da Petrini Si chiama Processo agli economisti Me lo ricordo Ed è divertente perché tu puoi andare a rileggere quello che un mese prima rispetto al fallimento di Lehman Brothers scrivevano gli economisti e scrivevano proprio anche queste banche d'affari Lehman Brothers per esempio stimava nell'agosto dell'anno della crisi quindi dieci anni fa esatti stimava la crescita del PIL americano allo 0,9% insieme alle altre cinque banche d'affari la media era tra lo 0,8 e il 2,1% Benissimo Questo un mese prima il fallimento di Lehman Brothers No, no, ma che gli economisti abbiamo avuto delle bufale gigantesche non c'è proprio dubbio Sono bravissimi sempre il giorno dopo è come vincere la schedina il lunedì Scusa, è successo un po' di maretta mentre noi siamo qui a chiacchierare amabilmente perché Borghi, tuo collega di governo di maggioranza ha detto sono straconvinto che l'Italia con la propria moneta risolverebbe parte dei propri problemi e poi ha precisato l'uscita non è in contratto di governo ma io sono convinto che l'Italia starebbe meglio con la sua moneta a questo punto il nostro premier Conte si è trovato costretto a fare una rettifica dicendo che l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea dell'Unione Monetaria e ci tengo a ribadirlo l'euro è la nostra moneta e per noi è irrinunciabile Borghi non ha detto niente di più di quello che diceva quando veniva ospite nelle trasmissioni anche io nelle trasmissioni continuavo a dire che però adesso il presidente di una commissione parlamentare deve stare più attento si deve stare attento insomma se uno richiede un commento culturale è libero di dire la sua prima di sentire Pannis faccio entrare un ragazzo che mi è molto piaciuto l'ho già invitato qui una volta l'ho ritrovato assieme a Pannis da Massimo Agiletti e lo volevo risentire si chiama Filippo Rignolo è un giovane artista ed è un ragazzo molto intelligente che si è fatto un'idea su una serie di cose tra cui i famosi vitalizi facciamolo entrare Filippo ciao buongiorno a tutti non ho specificato che la cosa più meravigliosa che c'ha Filippo è certamente la capigliatura come ben potete vedere ma non è tutto perché oggi Filippo ci scrive una lettera è proprio una lettera sui vitalizi perché ne abbiamo parlato un bel po' assieme quindi abbiamo chiesto di formalizzare la sua idea è un ragazzo molto giovane che tra l'altro cerca di far soldi con l'arte che è veramente una cosa bella coraggiosa vai Filippo a volte la battaglia per rivedere i vitalizi è sembrata una battaglia contro la politica ma per me è sempre stato il contrario è per amore dei diritti che ho sempre pensato che i privilegi vadano abbattuti la classe dirigente del paese non capisce il perché i vitalizi siano diventati così odiosi negli ultimi dieci anni il motivo ed è quello che vorrei spiegare è stata la crisi economica negli ultimi dieci anni i stipendi della mia generazione sono arretrati e molti dei ragazzi della mia età è dovuto andare all'estero e la differenza fra gli stipendi della gente normale e quelli di chi fa politica a essere il più grande problema perché diciamoci la verità se le persone guadagnassero 5.000 euro al mese nessuno troverebbe strano dei vitalizi da 5.000, 6.000, 7.000 ma tagliare i privilegi non basta i ragazzi come me gli artisti i fotografi i web designer non solo hanno dovuto subire l'umiliazione di sentirsi dire che con la cultura non si mangia che loro non è un lavoro vero ma un lavoretto ma hanno visto delle proposte di legge sempre più a vantaggio dei più forti una flag tax che aiuta le partite IVA di gente che guadagna fino a 8.000 euro al mese un reddito di cittadinanza che ormai assomiglia sempre di più a una bonus card oggi voglio dire una cosa abolire i privilegi non ci basta ci servono i diritti ci serve un lavoro dignitoso ci serve più cultura più welfare altrimenti la battaglia giusta sacrosanta contro i vitalizi diventa solo una bandierina ma con le bandierine non si mangia grazie Filippo che vi piace stare vicino a me ciao ben trovato benvenuto bravo allora volevo subito un commento di panice su questa perché appunto l'altra volta mi colpì lui non ha una posizione arrabbiata ideologica però fa un ragionamento che dice ma se io lo vedo col binocolo uno stipendio decente come posso accettare facilmente che c'è gente che prende tutti questi soldi perché Cazone ha fatto solo 3 anni 4 anni 5 anni in Parlamento con Filippo ho chiacchierato più di una volta su questo tema e devo dire che da certi punti di vista siamo perfettamente allineati con le bandierine non si mangia è verissimo io penso che uno Stato debba prima di tutto dare ai suoi cittadini lavoro possibilità di lavorare un lavoro dignitoso un lavoro ben remunerato questo è quello che deve fare uno Stato non gradire attraverso l'assistenzialismo il consenso della gente no non la penso in questo modo non posso condividere il reddito di cittadinanza come misura idonea a colmare le differenze le differenze si colmano dando alle persone che non hanno la possibilità di lavorare il lavoro questo è il punto fondamentale per quanto riguarda la tematica dei vitalizi la mia posizione è molto chiara io vivo in uno Stato di diritto e non difendo dei privilegi economici difendo una posizione di diritto che vale per tutti i 18 milioni di pensionati italiani soprattutto i 9 milioni di baby pensionati il cittadino che va in pensione ha diritto che lo Stato non gliela tolga da nessun punto di vista perché ha fatto un accordo con lo Stato può essere stato un accordo positivo o negativo come per esempio per moltissimi baby pensionati cioè gente che è andata in pensione che non aveva nemmeno 30 anni però sono frutto di leggi di quel tempo che oggi non possono essere modificate se in uno Stato di diritto si consente di poter modificare delle posizioni consolidate si butta all'aria tutto il principio fondamentale di un ordinamento allora vige la legge della giugla che la politica è la classe dirigente la politica deve dare l'esempio la politica ha dato dei cattivi esempi lei mi dice sempre che sono pochi esempi ma insomma io non mi riesco a scordare questi signori che hanno fatto un solo settimana in Parlamento hanno preso per un sacco di anni i nostri soldi c'è qualcosa che veramente non ha funzionato lei sa che sono tutte eliminate queste situazioni i vitalizi sono stati abrogati nel 2012 oggi l'unica cosa che è permanente è il diritto di un migliaio di ex parlamentari per lo più oltre 80 anni oltre 90 anni salvo qualche eccezione a mantenere quelle condizioni che sono spessissimo le uniche condizioni per le quali possono vivere si può discutere sull'entità sempre premesso che non sono cifre stratosferiche ma si può discutere sull'entità come si può discutere di qualsiasi cosa il principio fondamentale però è che non si può intervenire su situazioni consolidate perché scusa un attimo non c'è nessuna differenza tra il baby pensionato che prende 1500 euro al mese da 50 anni e che è andato in pensione che non aveva nemmeno 30 anni e il parlamentare ha seguito una legge dello Stato e il Parlamento se l'è fatta da sola la legge c'è una bella differenza però c'è un elemento più profondo tutti i due tutti i due sia il baby pensionato che il parlamentare di oggi utilizzano delle norme del passato non è che gli ex parlamentari di oggi sono loro che hanno costruito le norme oggi viviamo in un paese dove l'84% dei pensionati vige con il regime retributivo non contributivo il punto che diciamo sempre è che questa revisione dei vitalizi non è cancellarli non è che stiamo lasciando nessuno per strada a parte che hanno guadagnato un sacco di soldi tutta la vita quindi dubito che siano proprio per strada ma è che questi vitalizi vengono rivisti con il contributivo il contributivo è una condizione che la mia generazione avrà sulla propria pelle ma non solo la mia generazione vive con uno stipendio di 6, 7, 800 euro al mese avrà un contributivo e una pensione agghiacciante è giustissimo passare al contributivo faccia finire ma per tutti i cittadini italiani il punto che cos'è che distingue un privilegio da un diritto è una libertà a vantaggio del più forte una roba che 10 anni fa 20 anni fa poteva essere considerata un diritto dopo una crisi economica dopo una generazione che ha visto bruciare le proprie aspettative di vita e che è dovuta per la gran parte scappare all'estero perché parliamoci chiaro più che il problema dell'immigrazione noi abbiamo un problema di emigrazione un pezzo della mia generazione ha lasciato questo paese perché questo paese non è in grado di accoglierlo allora la luce di questo dobbiamo rivedere i vitalizi che questa cosa non viene mai raccontata un sacco di amici miei ora in realtà è quasi come l'Erasmo un sacco di amici miei vivono a Berlino a Londra a Parigi perché ti danno opportunità di lavoro ora io ho visto e sono preoccupatissimo per esempio dei tagli che ci sono in questa manovra che ancora non sono stati appunto enunciati formalizzati io spero proprio che sulla cultura perché per me la cultura è il cuore l'identità dell'Italia non sono i confini non è la cultura però affettiamo il tema alla volta andiamo ad atto subito l'Italia perché deve parlare il paragone e poi arrivo a lei un minuto l'84% dei cittadini italiani vive con il regime retributivo solo il 4% è passato al contributivo facciamo passare tutti va benissimo per una volta date l'esempio date l'esempio Paniz nessuno passino tutti non c'è nessuna difficoltà ma Paragone di un silenzioso e di un educato non lo riconosco più Paragone no ma perché mi trovo mi trovo un po' non vorrei essere nei panni di Paniz perché ma ci sta benissimo nei suoi panni Paniz stai tranquillo il problema il problema è che sta difendendo mi difendo tranquillamente senza nessun problema ma come vedi non mi scaldo particolarmente perché credo che alla fine non ci sia bisogno di scaldarsi la sua la tua versione è chiara tu dici di voler difendere dei diritti intanto ti domando da giornalista se sei remunerato per l'attività legale che svolgi per questi 500 penso di essere remunerato perché faccio l'avvocato dei ricorrenti quindi questa platea di 500 ricorrenti ma guarda come tu sai perfettamente ho uno studio che ha molte decine di persone e non è che abbia bisogno di un incarico in più o di un incarico in meno però in questo momento io difendo una posizione nella quale credo sono perfettamente convinto che uno stato di diritto debba difendere dei principi fondamentali nella vita democratica di un paese non mi ricordo una tua difesa accalorata come quella sul tema dei vitalizi quando si è trattato di difesa c'è una testimone ho già capito ma c'è una testimone però non l'ha ancora detto non è che facciamo capire anche a casa la difesa accalorata l'ho fatta per esempio per tutti coloro che sono stati danneggiati dalla legge Fornero Paragone è il turno di Paragone da parlamentare avrai votato delle riforme del lavoro l'ho rifiutata io non ho votato la legge Fornero ma non la fai parlare un momento facciamo un rischio non mi risulta che sia una legge sul lavoro mi sembra come no ha toccato il sistema pensionistico dei cittadini italiani benissimo però le condizioni di lavoro e del precariato di cui stavamo parlando prima che ha raccontato anche lui è un qualcosa che non è certo il retaggio di oggi è un retaggio di politica del passato che ti hanno visto protagonista perché credo che tu abbia in qualche modo contribuito a riscrivere quelle norme del lavoro che hanno portato a rendere sempre più precaria la situazione dei lavoratori e quindi i ragazzi ad andare via non credo di e non mi ricordo una tua particolare scelta accalorata o partecipazione netta quando si è trattato di difendere quelle persone che magari hanno lavorato per lo Stato italiano e che non vengono pagate dallo Stato italiano e che hanno loro sì molti diritti ma che i diritti vengono tranquillamente calpestati eppure nessuno parla mai tranne in una trasmissione come l'area che tira e poche altre hanno raccontato di questa profonda ingiustizia creata credo anche da classi dirigenti del passato e quindi oggi mi trovo ecco perché lo dicevo prima non vorrei essere nei tuoi panni perché stai facendo vedere quello che è ciò che ti interessa cioè lavorare per mettere una toppa o qualcosa che viene giudicata dalla maggioranza come una cosa di assoluto buonsenso non è una rivoluzione copernicana è una cosa di buonsenso che sta facendo questa maggioranza e che guarda caso ti trova e trova un migliaio di ex parlamentari intrincea per difendere i loro diritti quei parlamentari però nel corso del loro tempo e nella loro vita parlamentare hanno riformato in senso negativo il diritto dei lavoratori il diritto dei pensionati questo è falso no perché noi stiamo parlando di purtroppo tra quelli che hai dentro sicuramente troviamo gente che ha votato quelle riforme che hanno provocato il peggioramento dei diritti dei lavoratori e l'ultimo purtroppo che è un tema che ha messo particolarmente a cuore quella difesa sacrosanta dei diritti di chi ha lavorato per lo Stato e non viene pagato mi dispiace ma non ti ha mai visto in prima luce è un errore di fondo il tuo intanto non voglio citare esempi personali ma se vai a leggere un elenco delle vertenze giudiziali pendenti in Italia vedi quanti lavoratori sto difendendo per diritti che sono stati nei loro confronti calpestati ma guardando in senso generale qui c'è una testimone affidabilissima che è la conduttrice di questo programma che in altre termissioni ha saputo perfettamente che io non ho votato la legge Fornero e ho detto che quella legge sarebbe stata sbagliata perché avrebbe compromesso la posizione di molti lavoratori italiani ho una testimone affidabilissima e ho fatto una battaglia molto concreta per cercare di far capire al Parlamento di quel momento che si trattava di un eccesso e il tempo ha dimostrato che è stato un eccesso io le domande di dire che quando eri in maggioranza con Forza Italia non hai votato le riforme del lavoro? io ho votato molte riforme del lavoro delle quali sono convintissimo ancora oggi perché ritengo che siano riforme che hanno contribuito alla quale facciamo un po' di chiarezza facciamo un po' di chiarezza ma quello che vuol dire secondo me quello che vuol dire secondo me Gianluigi scusi Palletti che cosa sta facendo per pagare i debiti della pubblica amministrazione? non mi pare che sia intervenuto in alcun modo fino a questo momento infatti abbiamo proprio preso quindi parlare è molto facile poi bisogna fare devo correre sono in realtà scusate mi avete fatto perdere la brocca devo correre in pubblicità sono molto in ritardo Gianluigi tu mi capisci che ne hai fatto pure te torno e ti faccio concludere vi faccio concludere pubblicità dovete passare dalle parole no l'italiano l'italizzi vipi urla vipi urla eliminare i vitalizi che sono la cosa più atroce stiamo facendo un intervento puntuale serio questa legge era necessaria per ridare credibilità alla politica eliminare i vitalizi abolire il finanziamento pubblico ai partiti non sono proposte che deve fare da pericolo sono le nostre proposte cinque anni a me e Riccardo hanno detto che non si potevano tagliare i vitalizi e invece si possono tagliare si possono raccogliere molti soldi se si interviene sui vitalizi sono sui 40 milioni all'anno sono 200 milioni di euro a legislatura era chiaramente un sistema insostenibile se hai fatto 5 seduti pigli 2 mila euro al mese li dai indietro il ricalcolo secondo il sistema contributivo secondo noi è una cosa giusta mi sembra che sia giusto che ciascuno prenda quello che ha versato sono convinto che ho fatto la cosa giusta io non ho assolutamente paura di questi ricorsi vorrei vedere in faccia qualcuno che pigliando migliaia di euro ingiustificati al mese aveva la faccia di bronzo di fare ricorso è una giornata epocale sono stati aboliti i vitalizi abbiamo votato per l'abolizione degli odiosi degli vitalizi questo è un atto da terza repubblica grande te l'abbiamo fatta mi prenderò mi prenderò l'incarico di mettere in contatto Salvini e Panis se vuol vedere le facce di bronzo di chi fa il ritmo di ricorsi Panis devo presentare tutti Panis uno ad uno sono sono disponibile a un confronto quotidiano con chiunque senza nessun problema perché per me il diritto è diritto io faccio l'avvocato e come avvocato difendo delle posizioni che ritengo giusti questo non fa una piega da avvocato da classe dirigente io credo che tenere conto del clima del paese del racconto che ha fatto Filippo di come è precipitata una generazione sia un dovere morale io ho detto anche l'altro giorno io concordo al 100% ma non vuoi concordare al 100% io concordo al 100% ma tu lo stai prendendo a un giro si decide ma lo stai prendendo in giro e non è una cosa fare Rubi che puoi prenderlo in giro una seconda volta è un'altra cosa qui scusa mi permetto di ricordarti caro Gianluigi che sulla questione Rubi c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Milano ma va benissimo e una sentenza della Cassazione che hanno detto esattamente quello che ho detto io ma io vorrei distinguere io vorrei distinguere da l'avvocato di Milano che è perfetta come in un'altra che poi diventano un giro ma io vorrei parlare a Filippo la parola di Riccardo volevo dire una cosa dovreste pensarci prima di fare la sentenza di Riccardo abbiamo parlato abbiamo lasciato già poco a Filippo in Italia abbiamo la parola lasciamo la parola a Filippo una cosa il punto non è ho già risposto un attimo ho già detto posso provare a argomentare una cosa così dialoghiamo è una tecnica incredibile il punto è la differenza fra quello che si chiama legalità e quello che si chiama giustizia ok è tutto qua il punto un'altra volta che abbiamo conversato si raccontava di questi poveri pensionati che non arrivavano a fine al mese hanno dovuto occupare una casa quella cosa in termini di legalità non è legale ma è profondamente giusto se tu hai lavorato una vita e ti ritrovi a fare fatica ad arrivare alla fine del mese dovere insieme agli altri auto-organizzarti e trovare una casa quella cosa è giusta e non è legale in questo caso dei vitalizi probabilmente forse forziamo la legalità ma è profondamente giusto adeguare il come si dice i vitalizi a quello che sarà il destino di una generazione perché la legalità non la forziamo non la sogliendo tagliando gli stipendi del parlamentare io faccio l'artista e mi domando prima la giustizia intervenendo su tutti ha detto una cosa questo giovane artista che dicevano gli antichi summa l'ex summa l'ignoria e questo è il grande tema devo arrivare a De Ricola però voglio dire una cosa a Giorgio Gipri lui ha ragione quando si sofferma su delle ingiustizie fatte a norma di legge quando vengono buttati fuori di casa anziani persone con disabili in casa quante ne abbiamo raccontate purtroppo e c'era sempre qualcuno un po' più forte che aveva magari studi legali importanti che riusciva a vincere e quel povero disgraziato è cornuto e mazziato per dirla con un'espressione del popolo perché perdeva la casa e subiva anche l'umiliazione di vedersi una sentenza sfavorevole allora caro Panizzi tu puoi continuamente difendere quello che è il diritto ma ci sono dei diritti che si scrivono con la D non solo minuscola ma microscopica tu stai difendendo dei diritti che si scrivono con una D microscopica perché sono dei diritti che devono essere difensi di tutti quelli che ritengono abbiano diritto di essere difensi De Nicola differenza tra giustizia e diritto è una grande questione allora spezzerò una piccolissima lancia a favore del ragionamento di Paniz su un punto e cioè che lo Stato di diritto nello Stato di diritto la forma è sostanza perché altrimenti se decidiamo noi col nostro giudizio personale cos'è giusto e cos'è ingiusto che quindi che cosa possa essere violato della legalità esistente naturalmente siccome abbiamo tanti concetti di giustizia diversi non si riesce ad avere uno Stato di diritto una cooperazione sociale una società civile detto ciò questo non vuol dire che la causa di Paniz avrà successo non ne ho la minima idea e quindi può darsi che abbia ragione può darsi che abbia torto dal punto di vista della sostanza sono assolutamente d'accordo col sistema contributivo sono assolutamente d'accordo che i parlamentari ricevano quello che hanno contribuito faccio notare che nel passato faccio notare che nel passato la Corte Costituzionale ha ammesso per le pensioni più alte uno stop temporaneo all'indicizzazione naturalmente non di tutte le pensioni e completamente ma alcuni stop temporanei quindi da un punto di vista della legalità è difficile da dire chi vincerà e per l'appunto io sono talmente a favore del contributivo che mi chiedo come mai Salvini che è così difensore del contributivo per i parlamentari non lo sia altrettanto per il sistema pensionistico italiano con questa quota 100 che invece il contributivo rischia di sfasciare quindi questa è una coerenza che dovrebbe esserci se sei a favore del contributivo lo sei sempre io lo sono molto a favore dei parlamentari lo sono molto a favore dei normali cittadini allora devo andare in pubblicità se proprio c'hai un tweet dove andare che saranno anche Nicola Zingaretti Don Milani ci ha insegnato il fatto che a volte disobbedire la legge per il senso alto della giustizia è il modo migliore per salvare uno Stato perché spesso si scrive sulla legge una cosa che è il contrario della nostra etica prima viene l'etica la morale e Don Milani ce l'ha insegnato è un principio molto pericoloso ma essi del passato insegnano ma la gente non li parla è un principio molto pericoloso perché mi pare che insomma comincia a prenderci gusto però glielo auguro in questa fase devo andare in pubblicità grazie a tutti voi grazie a tutti